ed eccoci qua con PES 2017 di nuovo allora campionato master ben trovati a tutti grazie per la visione eccetera eccetera allora il trattativo non mi frega un cazzo ok possiamo partire via subito schema di gioco che è il Brescia Brocchi la squadra di Brocchi allora possiamo mettere questo e e e e e e qua coglian stiletto do cotugno facciamo così lasciamo stare così e alle maglie vediamo se può fare di meglio è un bianco con questo perfetto ok bravissimi di testa dai non credo che avrebbe potuto fare meglio di così insomma forse l'ha marcato va bene va bene ci sta dove vai dove vai la subito ma dai risponda dai così queste gol queste gol queste gol queste gol queste gol si vai così 1-0 dai 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 fino in fondo ed è stato freddissimo sottoporta andiamo fatto il coso filtrante è passato grande bel gol perché all'immero non ho fatto non ho potuto far niente palla in profondità sulla faccia fanno il cross palla in profondità il portiere ma che cazzo combina portiere che all'immero tenta l'affondo sulla destra buona la sua progressione tanto io sto vincendo ma è mo così dai e dai bello ma perché non c'è mai nessuno vuoi capire bellissimo madonna che cazzo di azione oggi o spazio è però è però 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 cazzo di pochissimo forse troppo diciamoci la verità era difficile battere il portiere da quella vediamo e dai bello vai 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 e tira tira ma vaffanculo ma come cazzo tiri la così si vai vai dai dai bellissimo grande grande il gol l'argas argas e non poteva mancare un'occasione del genere bellissimo sto profondo e lui è stato bravissimo ad approfittarne grande 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 gol del madonna che gol così quasi lo salvo vedere un cazzo di qua bellissimo vediamo il cross chi è che è stato a fare il cross vabbè sempre il trastino ok ci ha avuto il trastino bellissimo bellissimo madonna che precisione col contagini per dopo bello madonna che che cazzo di giro che ho preso la palla bellissimo questo lo salvo perché è stato a fare tutto di prima bellissimo ottimo il fraseggio è il fraseggio pallone alto nello spazio no madonna parata la parata non una parata semplice ma è smappalo vedeva ma non c'è un lady scatti di replay la parata facciamo a pallo grandissimo portiere non fare le puttanate adesso però eh esce di cazzo maledetto non fare le puttanate adesso non fare le puttanate mamma mia dai bello bellissimo dai ma dai ma va a fanno culo due padri e il cazzo eh non di molto non di molto non di molto non di molto ma è stato di cazzo vedremo se troveranno la forza per reagire palla giocata alta sulla fascia sulla fascia sulla fascia via 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 ma che culo però sempre così oh 16 tira in porta non riesco a chiudere sto cazzo di partita dai trovo la soluzione in profondità bell'anticipo pericolo smettato ma trae mi anticipano sempre però guarda che roba ma guarda madonna madonna sta palla passaggio sulla destra può andare alla conclusione ah 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 t'ho capito eh t'ho capito ah t'ho capito stavamo t'ho capito puttana troia stai lì stai fermo lì eh puttana troia oh ogni tiro un go quello lì sono tornati in partita quando tutto sembrava perduto hanno trovato la forza vaffanculo che palla su caracciolo veramente puttana troia cosa vuoi fare e poi riuscito a insaccare senza nessuna difficoltà eh dai madonna va dappertutto poi e sono riusciti nell'impresa di rimontare lo svantaggio vaffanculo va vaffanculo va sei zitto per me cazzo dai ma vaffanculo va mi cazzo fai a sbagliare da lì mi cazzo fai a sbagliare da lì sto coglione proprio mi cazzo ci ha dato come cazzo ci da ma donno sto caracciolo ottimo passaggio via così non farlo tirare non farlo accrossare non farlo passare dai cerca lo spunto da cazzo la palla sulla destra ha la possibilità di andare verso la porta dai su che cazzo però ci fanno già partecipare chance per tirare ma che roba oh ho avuto un'ottima occasione fa golla lontana fa golla lontana troia il tempo sta per scadere devono darsi una mossa vai a fare insomma si tratta efficiente caracciolo e dalla lì subito è quasi finito presto arriverà al fischio dell'arbitro e dalla giocata nello spazio dai dai tale ancora taci e taci mutano la trottina buona con la vacca molto vicino un tiro ottimo un tiro ottimo ed è andato vicino a una nuova segnatura è l'incubo di ogni difesa gli avversari sono tentati di marcarlo a uomo e questo permette ai suoi compagni di sfruttare gli spazi che crea stai una troia l'altra con il culo lo pusano con la vacca Bubnich non è Bubnich fa il culo Bubnich sta di cazzo maledetto muniscilo massalo ma tanto è finita dai dai dalla lì si dai speriamo si grande grande gol così fa un culo manca pochissimo si manca poco manca pochissimo adesso metto tutti in difesa metto con calma senza fretta aspetta schermo del gioco ma che si faceva in portazione livello automatico si no livello automatico no ok quindi dai ok ho messo tutto in difesa con calma con calma con calma butto via così dai dai che è finita dai e piscchia si si e vai e vai così madonna vediamo i tiri stai zitto vediamo i tiri allora i tiri allora noi abbiamo fatti 15 ah però pensavo di più quindi io 19 neanche tanto poi gol vabbè posso assoparla passare intercettati 45 20 24 84 69 ma fa un culo ho vinto che cazzo me ne freghi ah ma ok che cazzo che miseria fat lavoro allora vediamo anche che ha finito ancora il stassuolo quanto ha fatto dov'è insomma è quello che vinceva sempre che cazzo è avellino ah frusinone forse non era non è il stassuolo che cazzo è ecco no è il frusinone infatti si riesce ha perso comunque e danno dove sono sono ottavo grande poi si rinca va da 27 27 con con il provercelli provercelli vediamo chi c'è questo questo è il rapporto sul gruppo del giocatore l'abilità di rai si è aumentato a 66 va bene chi cazzo c'è il cesena cazzo ma chi c'è il cesena non ci ricordo la giocatore un offerto il comandatore l'incanto del re realo viedo il quale è un offerto di contratto nel giorno 31 dicembre andata un po' vediamo chi ha che ha ma tanto scelgo sempre questa bene anche il vercelli il vercelli ho visto chi c'ha ma questo vediamo schema di gioco 73 70 70 70 63 71 75 69 63 68 70 poi in panchina il più forte è a 70 poi quello un po' più debole il jonathan rocca ma è mica male questa questa non è male per niente però voglio vedere ok allora velocità è veloce quella porca troia vediamo quanto c'è veloce in velocità dribbling velocità 88 porca troia puttana questo no però c'è il fisico ok questo è veloce è un top di velocità ma quasi quasi lo compro però non c'è soldi non ho i soldi ma la trattativa è sempre solita mi so questo questo col cazzo che te lo do non te lo do aria vabbè si non c'è il coso ritirami non c'è le trattative non puoi negruzziare allora ma che cazzo me lo fai vedere a fare quindi niente alla prossima ciao a tutti